Benvenuti in BNL Benpe Paribas, parte del gruppo Benpe Paribas, tra i principali gruppi bancari dell'Unione Europea per capitalizzazione di mercato e al servizio di un'economia sostenibile. Siamo la banca per un mondo che cambia, ma da oltre 110 anni lavoriamo per fare in modo che una cosa non cambi mai, la vostra fiducia. La fiducia è un patto a cui vogliamo essere fedeli ogni giorno come partner di riferimento. Fiducia è affiancare le persone, le imprese e le istituzioni nella realizzazione dei progetti di oggi e di domani. Fiducia è il nostro impegno per l'inclusione sociale, come il progetto Inclusiti, dedicato alle periferie. Per la parità di genere, con la certificazione ricevuta nel 2023. Per l'ambiente, partecipando a Park Litter di Lega Ambiente. E per la formazione interna, con BNL Benpe Paribas Academy. Fiducia è dare nuove forme a nuovi spazi. Spazi fisici, come le nostre filiali, e di relazione. In cui, grazie all'innovazione tecnologica, sentirsi connessi è possibile. Fiducia è prendersi cura di rapporti che vanno oltre il singolo individuo, come le partnership con Fondazione Teleton e con gli internazionali BNL d'Italia, per costruire tutti insieme il futuro in cui crediamo. Perché come gruppo abbiamo una grande responsabilità. In un mondo che arriva sempre più lontano, lavoriamo per offrire delle soluzioni vicine, a cui ognuno possa affidarsi. Per un mondo sempre più a misura. BNL Benpe Paribas. La banca per un mondo che cambia.